Buona solennità dell'Immacolata, buongiorno a tutti, questo è il TG2000, subito i fatti più importanti di oggi. La decisione di Donald Trump incendia il Medio Oriente, stato di allerta dopo la scelta degli USA di riconoscere di fatto Gerusalemme come capitale di Israele, al via il primo dei tre proclamati giorni della collera. Si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l'Unione Europea invita i leader di Israele e Palestina, le proteste arrivano sino in Indonesia e Malesia, Trump si difende o mantenuto la promessa lanciata in campagna elettorale. Brexit, accordo ad una svolta, Unione Europea e Regno Unito raggiungono una intesa, evitata una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord, che appartiene alla Gran Bretagna. Anche dopo l'uscita, i cittadini dell'Unione Europea che vivono in Inghilterra e gli inglesi che risiedono nell'UE manterranno gli stessi diritti. Nella solennità dell'Immacolata Concezione, Papa Francesco recita l'Angelus a Piazza San Pietro, questo pomeriggio il tradizionale omaggio alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, diretta su TV2. Di nuovo, bentrovati a tutti voi, lo avete sentito Medio Oriente ad alta tensione, dopo la scelta di Donald Trump di spostare l'ambasciata USA a Gerusalemme. Oggi è il giorno della collera, Israele è in stato di allerta per le preghiere del venerdì, la polizia presidia la città vecchia. Manifestazioni anche in Iran, oggi riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e si muove anche l'Unione Europea. Da Betlemme ci colleghiamo in diretta con l'inviato Vittorio Torre per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno Fabio, si annuncia un venerdì di rabbia e di preghiera, massima allerta in tutta la Palestina. Adesso, come dicevi bene da studio, mi trovo a Betlemme, sede ieri di violenti scontri tra i manifestanti e l'esercito israeliano, soprattutto vicino al muro che divide la Palestina da Israele. Massima allerta, dicevamo, in tutta la Palestina, l'esercito israeliano ha schierato centinaia di militari in più, soprattutto a Gerusalemme, nelle vicinanze della città vecchia. Massima attenzione nei pressi della moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell'Islam. Le immagini che state vedendo ci giungono in diretta da Gerusalemme. Israele dunque vive in stato di massima allerta nel timore di nuovi incidenti e scontri, il timore dei servizi segreti israeliani e che possano entrare in azione lupi solitari. Anche questa mattina alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro i veicoli che transitavano sulla strada che collega Gerusalemme a Tel Aviv attraverso la Cisgiordania. La diplomazia internazionale è a lavoro in attesa del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come ci spiega Antonio Soviero nel suo servizio, servizio con il quale io da Betlemme vi restituisco la linea. Gerusalemme, città vecchia. L'alba apre il giorno del venerdì di preghiere di rabbia per i palestinesi, dopo l'annuncio di Trump di riconoscere la città sante e contesa capitale di Israele. Dopo gli scontri di ieri con almeno 50 palestinesi feriti e due razzi lanciati dalla striscia di Gaza verso il sud dello Stato ebraico, che ha risposto bombardando siti di Hamas, polizie ed esercito israeliano sono in stato di massima allerta. Si temono nuovi disordini sia sulla spianata delle moschee che in Cisgiordania, al termine della preghiera che potrebbe dare il via alla terza intifada chiamata dal leader politico di Hamas, Ismail Hanyer. Il governo israeliano per ora non ha imposto restrizioni ai luoghi di culto islamici come in passato in situazioni simili. Ho mantenuto la promessa elettorale, gli altri non lo hanno fatto, twitta Trump difendendo la sua decisione criticata dal mondo intero. Questa sera si terrà una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza ONU, mentre Federica Mogherini annuncia di aver invitato il presidente palestinese Abu Mazen al prossimo Consiglio degli Esteri dell'UE a gennaio. Il Medio Oriente rischia di esplodere. Il movimento libanese Esbolla annuncia un'immensa manifestazione popolare per la lunedì a Beirut. Tra i leader musulmani più attivi, il presidente turco Erdogan, che ha invitato i 57 paesi membri dell'organizzazione della cooperazione islamica, il 13 dicembre a Istanbul per un summit straordinario sulla decisione di Trump a complicare ulteriormente la situazione, il giallo della cancellazione dell'incontro. Il 19 dicembre a Bethlehem tra Mazen e il vicepresidente statunitense Mike Pence. Ieri la Casa Bianca aveva ammonito che la revoca del faccia a faccia sarebbe stata controproducente, ma oggi un alto funzionario del partito Fatah di Mazen ha detto che Pence non è benvenuto nei territori e che l'incontro con il presidente palestinese non si terrà. L'ufficio di Mazen non conferma né smentisce. Il giallo continua. La Russia interferì sul referendum costituzionale in Italia del 4 dicembre 2016. Lo ha rivelato l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, John Biden, in un articolo pubblicato sulla rivista Foreign Affairs. Secondo la tesi dell'ex numero 2 dell'amministrazione Obama, si tratterebbe di una strategia del Cremlino di esercitare una influenza occulta non solo sulle realtà dell'est vicine alla Russia, ma anche sull'Occidente, considerato di interesse privilegiato del Cremlino, con azioni che favoriscano partiti e formazioni antisistema. In Italia, i 5 Stelle e la Lega, un avviso, quello di Biden, che guarda le prossime elezioni politiche in primavera 2018. Ed ora nel Regno Unito. Dopo mesi di lavoro spunta l'accordo sulla Brexit. Lo ha annunciato il presidente della Commissione europea dopo il vertice notturno a Bruxelles con la premier britannica May. I contenuti, i diritti e i costi del patto nel servizio di Beatrice Bossi. Si è lavorato tutta la notte con telefonate estenuanti tra Bruxelles e Londra, ma stavolta l'accordo sulla Brexit è arrivato. Così, Theresa May all'alba è atterrata in Belgio per stringere la mano al presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e annunciare alla stampa i termini del divorzio. Abbiamo lavorato duro, non è stato facile, ha detto l'inquilina di Downey Street, che sulla questione ha rischiato più volte di perdere la poltrona. A farle eco al suo fianco il presidente che ha aggiunto «Ora è il momento di guardare al futuro, in cui la Gran Bretagna è un amico e un alleato». Ed eccolo l'accordo di 15 pagine firmato questa mattina che definisce a grandi linee diritti e doveri dei due amici e dei due alleati. In primo luogo, ai 4 milioni di cittadini europei residenti nel Regno Unito saranno garantiti gli stessi diritti di cui godono oggi. Le procedure per restare nell'isola saranno facili ed economiche e questa è una vittoria di Londra, la giurisdizione per regolare i singoli casi sarà solo quella inglese. Dall'altra parte, Bruxelles ha ottenuto un assegno di divorzio molto vicino a quanto richiesto. Gli iniziali 60 miliardi saranno alla fine poco più di 50 e a rate, necessari comunque a garantire la copertura di tutti gli impegni presi dal Regno Unito prima del referendum. Non per ultimo poi l'accordo sulla questione irlandese. Non ci sarà nessuna frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Due anni di transizione e poi il 29 marzo 2019 l'addio all'Europa sarà realtà. Intanto giovedì prossimo al Summit Europeo i 27 paesi dell'Unione daranno il via libera formale al divorzio. Dopodiché si aprirà la seconda fase delle trattative, quella sui futuri rapporti commerciali e solo allora si affronteranno le sfide più difficili. In Italia ora, con la richiesta di scarcerazione per motivi di salute di Marcello Dell'Utri, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha bocciato l'istanza dei legali dell'ex manager di Publitalia ed ex senatore Azzurro condannato a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Secondo i magistrati, in base alle relazioni dei periti, non ci sarebbe un peggioramento del quadro clinico di Dell'Utri e le patologie cardiache e oncologiche sono sotto controllo farmacologico e non costituiscono aggravamento del suo stato di salute. La terapia può essere effettuata in detenzione. Dell'Utri per protesta ha annunciato uno sciopero della fame e delle cure. Giornali e partiti di destra hanno avviato una campagna per la scarcerazione denunciando un clima persecutore. Giallo su un appunto attribuito a Giovanni Falcone, riemerso per caso nell'ufficio del giudice al Palazzo di Giustizia di Palermo, ormai diventato un museo. Su un foglio di blocnotes a quadretti c'è scritto Cina in buoni rapporti con Berlusconi, Berlusconi da 20 milioni a Grado e anche a Vittorio Mangano. Lo riporta il quotidiano La Repubblica. A dichiarare la scoperta è stato uno dei più stretti collaboratori del magistrato Giovanni Paparcuri che dopo essere andato in pensione accoglie nel bunker del pool antimafia i visitatori. Sulla nota e sulla sua veridicità non ci sono conferme al momento. Adesso invece andiamo negli Stati Uniti. Prima vittima dei fortissimi incendi che dall'inizio della settimana stanno divorando la California. È salito a 230 mila il numero delle persone evacuate. Mori di fuoco minacciano Los Angeles e con i venti che stanno raggiungendo la forza di un uragano si teme il peggio. Luciano Pescaglia. La California continua a bruciare e al lungo e drammatico elenco dei danni causati dalle fiamme si deve ora aggiungere la notizia della prima vittima. Il corpo senza vita di un uomo è stato infatti trovato nella contea di Ventura, una delle aree più colpite dagli incendi che dall'inizio della settimana, alimentati dal clima secco e da fortissimi venti, stanno devastando l'area meridionale dello Stato. Le fiamme hanno divorato quasi 450 mila metri quadrati di terreno, incenerito la vegetazione e distrutto migliaia di abitazioni. Nella sulla zona nord-occidentale di Los Angeles sono più di 400 gli edifici distrutti e ieri anche il quartiere più esclusivo della città è stato sgomberato. Il numero delle persone sfollate è salito a più di 230 mila. Le autorità hanno per la prima volta proclamato l'allerta viola, mai utilizzato in precedenza, ma necessario per la pericolosità delle fiamme, contro le quali da lunedì lottano giorno e notte 4.000 vigili del fuoco, con l'ausilio di aerei ed elicotteri. Le alte colonne di fumo che si levano dalle centinaia di incendi attivi in California sono chiaramente visibili anche dagli astronauti della stazione spaziale in orbita intorno al pianeta. Ed hanno fatto il giro del mondo le immagini di un ragazzo che lungo la statale 101 ha fermato l'auto, è sceso ed ha sfidato il fuoco per salvare un coniglietto selvatico terrorizzato dalle fiamme. Un cittadino italiano, Alessandro Sandrini, di 32 anni, di Folzano, a Brescia, ha scolparso in Turchia da 14 mesi, si troverebbe sequestrato in Siria, da dove ha telefonato a casa pochi giorni fa a ricostruire la vicenda il giornale di Brescia che ha intervistato la madre. Il giovane, lo vedete, il cassa integrazione era partito il 3 ottobre 2016 per la Turchia con un viaggio organizzato. Mi hanno sequestrato, non so dove sono. Avvisa l'ambasciata, questi non scherzano, mi vogliono uccidere alcuni dei messaggi inviati. L'ipotesi è che il giovane sia stato sequestrato da un gruppo a scopo di ricatto. Valutazioni sono in corso da parte della Procura. A Firenze, nella Basilica del Santo Spirito, voltiamo pagina, è stato inaugurato il presepe artistico di Francesco Artese, un apprezzato artigiano lucano che realizzò cinque anni fa un presepe donato al Papa e disposto a Piazza San Pietro. Come ci racconta Silvio Vitelli. Se Cristo fosse nato a Matera, tra i famosi sassi che l'hanno resa celebre nel mondo, sarebbe tutto come in questo straordinario presepe donato dalla regione basilicata alla città di Firenze. La rappresentazione del mondo contadino lucano attraverso 120 personaggi dislocati in uno spazio di ben 100 metri quadri, grande quanto un appartamento. L'opera è ospitata a Firenze, nella Basilica di Santo Spirito, anch'essa in qualche modo presente all'interno del presepe. Un riferimento alla Basilica facendo realizzare Michelangelo, che scolpisce il cristoligno, lui aveva l'età di 17 anni, che è vicino a fianco alla chiesa rupestre. La Madonna solleva suo figlio in segno di offerta. Il bambino tiene le braccia allargate come su di una croce, esattamente nella stessa posizione in cui si troveranno 33 anni dopo, nel momento della sua morte. Ci è piaciuta l'idea di poterlo mettere proprio di fronte all'altare, quindi di fronte all'eucaristia, proprio perché il mistero dell'incarnazione fosse proprio di fronte al mistero di Gesù che dà la vita e poi nel percorso anche il crocifisso, quindi quasi un percorso, l'incarnazione, l'eucaristia, la morte di Gesù. A Piazza San Pietro ieri è stato inaugurato il presepe. Ad offrirlo quest'anno l'abbazia di Montevergine in provincia di Avellino ha acceso anche l'albero di Natale donato dall'arcidiocesi polacca di Elk. Entrambi resteranno illuminati sino alla notte di domenica 7 gennaio, che secondo l'anno liturgico conclude il tempo di Natale. E sempre a Piazza San Pietro, questa mattina, nel giorno in cui la Chiesa celebra l'Immacolata Concezione, Papa Francesco ha recitato la preghiera mariana dell'Angelus. Il peccato invecchia e sclorotizza il cuore, ha detto il Papa. Sentiamone un passaggio. Quando diciamo a Maria piena di grazia, in un certo senso le diciamo anche questo, al livello più alto. Infatti, la riconosciamo sempre giovane, perché mai invecchiata dal peccato. C'è una sola cosa che fa davvero invecchiare, invecchiare interiormente. Non l'età, ma il peccato. Il peccato rende vecchi, perché sclerotizza il cuore. Lo chiude, lo rende inerte, lo fa sforire. Ma la piena di grazia è vuota di peccato. Allora è sempre giovane. È più giovane del peccato. È la più giovane del genere umano. E questo pomeriggio, alle ore 16, il Papa Francesco, come avviene ininterrottamente dal 1953, si recherà a Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio alla Statua dell'Immacolata, nel giorno in cui i romani, per tradizione, portano fiori e voti ai piedi della colonna che sostiene l'immagine della Vergine. Seguiremo la preghiera di Francesco in diretta su TV2000. Lo ricordiamo, a partire dalle ore 16 e poi il diario di Papa Francesco, sempre in diretta. Come state leggendo. E questa mattina, a salire sulla sommità del monumento, sono stati i Vigili del Fuoco per deporre una corona di fiori, come ogni 8 dicembre. Ma qual è l'origine, il significato di questa giornata che celebra l'Immacolata Concezione e il dogma riconosciuto da Papa Pio IX, Nicola Ferrante? Ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. Le parole di Bernadette Subiru a Lourdes nel 1858 arrivano quattro anni dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione e appaiono subito come la conferma del cielo della definizione fatta da Pio IX nel 1854. Ma dire il vero, il culto dell'Immacolata è antichissimo. Perfino alcuni padri della Chiesa Orientale definiscono la Vergine santuario incorruttibile. Si badi che il dogma non si riferisce alla nascita di Cristo, cioè al figlio virginale di Maria su cui è sceso lo Spirito Santo, bensì alla concezione di Maria stessa nel grembo di sua madre senza peccato originale. La data dell'8 dicembre infatti precede di nove mesi esatti quella del prossimo 8 settembre in cui, lo sapete, si celebra la nascita di Maria. Ha conferma che oggi la festa riguarda la prima scintilla embrionale della Madonna preservata da ogni immacchia sin dal primo battito della sua vita. Definire come verità di fede tutto questo scatenò anche nella Chiesa Cattolica un dibattito acceso. Pochi sanno, ad esempio, che la notte precedente, all'8 dicembre del 1854, come detto data della proclamazione, i Domenicani, custodi della retta dottrina, avevano riunito in preghiera un buon numero di fedeli vicino al Vaticano per scongiurare che il Papa proclamasse il dogma. La storia è andata diversamente e i Papi hanno sempre difeso il culto dell'Immacolata. Pio IX fa erigere la statua di Piazza di Spagna, Pio XII per primo in Via Fiori, Giovanni XXIII, lo vedete, il primo a recarsi di persona per l'atto di venerazione. L'8 dicembre 1958, dopo Piazza di Spagna il Papa Buono andò a Santa Maria Maggiore. Oggi Francesco, anche lui non è mai mancato al canto del Tota Pulcra. Quest'anno, dopo Piazza di Spagna, la visita lì vicino a Sant'Andrea delle Fratte, il santuario della Madonna dei Miracoli, dove l'Immacolata apparve a un ebreo poi convertitosi. Il quadro, lo ricorderete, era andato in Vaticano lo scorso primo gennaio per l'anniversario dei 175 anni dalle apparizioni. Oggi è Francesco, in visita privata, a rendere omaggio a Maria, concepita senza peccato. Ed è tutto, vi lascio a terza pagina, il TG2000 torna alle 18.30. Buona solennità dell'Immacolata a tutti voi e le vostre famiglie. Arrivederci. Grazie.